Nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre scorsi, l'assessore allo sport del Comune di Potenza, Giovanni Salvia, viene contattato su Facebook da una giovane donna ed invitato a proseguire la conversazione con una video chat su Skype. Qui ma esce nel porno ricatto, con l'amministratore che vede interrompere bruscamente il filmato e comparire una scritta, questo video verrà pubblicato su Facebook e YouTube se non fai quello che diciamo noi. Il 15 ottobre Giovanni Salvia riceve la telefonata di Giuseppe Postiglione, che gli chiede un incontro urgente. L'incontro avviene poche ore dopo negli uffici del Consiglio regionale della Basilicata, alla presenza del consigliere regionale Aurelio Pace e di Antonio Postiglione, fratello di Giuseppe. Per prendere tempo il coordinatore dei Popolari per l'Italia, Aurelio Pace, si fa firmare le dimissioni in bianco dell'assessore Salvia, allo scopo di mostrarle a Postiglione in caso di necessità. Lo stesso Postiglione, nel corso dell'incontro in regione, evidenzia i suoi interlocutori che in campio di soldi si sarebbe astenuto dalla pubblicazione del video. Fra il 17 e il 27 ottobre Giovanni Salvia incontra ripetutamente Giuseppe Postiglione. Quest'ultimo, dopo aver notato la resistenza dell'assessore a cedere al primo ricatto, inizia a chiedere altri vantaggi di tipo economico. Il 27 ottobre Giovanni Salvia decide di denunciare l'accaduto alla Polizia Municipale e scatta l'indagine della Procura di Potenza. Il 12 dicembre, dopo aver ricevuto una mail con la scritta vergognati per quello che sta coprendo e aver notato la diffusione in città di alcuni volantini sul video che ritraeva l'assessore Salvia, il sindaco De Luca decide di recarsi in questura insieme all'esponente della sua giunta per denunciare l'accaduto. Il primo cittadino di Potenza racconta di essere stato avvicinato dal giornalista Gianluigi Laguardia, che gli avrebbe consigliato di sostituire Giovanni Salvia con Franco Morlino per far entrare in consiglio comunale Giuseppe Postiglione e risolvere in questo modo i loro contrasti. La replica del sindaco è molto esplicita. Certe persone meritano di stare in carcere e non in seno al consiglio comunale. Al termine delle indagini per l'ex patron del Potenza Calcio e direttore editoriale di Radio Potenza Centrale Giuseppe Postiglione, scattano gli arresti domiciliari con l'accusa di tentata estorsione. I contenuti dell'indagine sono stati illustrati a potenza nel corso di una conferenza stampa dal procuratore Luigi Gay, dai PM Francesco Basentini e Antonio Natale e dal dirigente della squadra mobile del capoluogo lucano Carlo Pagano. Tanti particolari emersi, tutti ancora da chiarire. La trappola in rete, dieci giorni prima rispetto a quanto accaduto a Giovanni Salvia, ha rischiato di mietere altre vittime. Tra il 6 ed il 7 ottobre scorso, infatti, un altro assessore comunale di Potenza era stato insistentemente contattato sui social network da parte di alcune donne. Si tratta di Rocco Coviello, ancora componente della Giunta con la delega all'ambiente. Secondo il racconto da lui fatto, lo scorso 29 ottobre, davanti alla Polizia Municipale, ha immediatamente respinto tutte le richieste delle ragazze, sospettando che potesse trattarsi di un pericoloso tentativo di colpire l'amministrazione comunale di Potenza.